Sono Vinci Carmine e frequento l'Istituto Pannella Vallauri di Reggio Calabria. Shade Silvester, frequento la quinta B dell'Istituto Pannella Vallauri. Sono Paolo Caracciolo e frequento l'Istituto Pannella Vallauri di Reggio Calabria. Ciao, sono Piero Ezdrobe e frequento la quarta B Informatica. Mi chiamo Domenico Ambrogio e frequento la quarta B dell'Idis Pannella Vallauri. Ho scelto questa scuola perché fin da piccolo avevo una passione per l'informatica. Questa è l'unica scuola di Reggio che vantava di avere un grande numero di laboratori di informatica molto attrezzati e ben forniti. Siamo riusciti a staper creare delle reti aziendali o anche una semplice rete domestica attraverso dei software virtuali. Il mio sogno è sempre stato quello di diventare un game developer. Quindi quello che hai studiato ti servirà a diventare uno sviluppatore di giochi? Assolutamente sì. Ci sono molti professori qualificati e molti laboratori in cui imparare tutto sull'informatica dalla programmazione alla creazione appunto di reti. Molte cose che ritenevo sapere qui le ho approfondite molto di più e alcune cose che non sapevo le ho imparate. Che cosa vorresti fare da grande? La stessa cosa del nostro Silvester, quindi programmatore di due giochi. Vorrei entrare in una casa produttrice, quindi è importante come la Ubisoft per un esempio. Per chi come me ha fin da piccolo un istinto per andare a comprendere cosa c'è dietro un cellulare, dietro quello che si tocca, questa è la scuola adeguata. Perché facciamo 16 ore settimanali riguardanti l'informatica. Sinceramente prima di venire qui non sapevo nemmeno quale corso avevo scelto perché mia madre con la professione sceglieva una scuola e c'era una scuola fino a scelto questa perché era più cinaccata. Poi negli anni ho scoperto che l'informatica è davvero molto bella, ti aiuta a risolvere i problemi tutti i giorni. Per i due anni sono stati più una cosa mista tra tutti i corsi. E al terzo anno abbiamo cominciato proprio lo studio delle linguaggi di programmazione e lì ho scoperto la mia passione per l'informatica. Così ho deciso di impegnarmi di più e continuare. Qualche uno dei suoi ragazzi le ha insegnato per esempio qualcosa? Sì, certo. Mi insegnano l'aspetto giulivo e ludico, diciamo. Io non avevo un profilo Facebook fino a sei mesi fa. Ho dovuto farlo di quanto mi hanno tartassato. Sai fare l'hacker? Diciamo che qui non è insegnato, però qualcosa ovviamente si impara. Però non si fa? Non si fa, assolutamente no. Non si fa, assolutamente no.